Per i testimoni di Geova, grandi celebrazioni oggi in occasione del rito del battesimo celebrato in diverse città. A Roma uno degli incontri più imponenti con delegazioni arrivate da tutto il mondo. Decine di migliaia di persone, di nazionalità ed etnie diverse per il raduno internazionale dei testimoni di Geova, con delegati provenienti oltre che dall'Italia, da 18 paesi dell'Europa, America e Asia. Si sono riuniti a Catania, Cagliari, Palermo, Torino, Monza, Bari. Qui siamo a Roma, allo Stadio Olimpico. La maratona di tre giorni, che si concluderà domani, celebra oggi il rito del battesimo per i nuovi testimoni, con l'immersione completa in acqua. Giovani, anziani, uomini e donne. Da questo momento appartengono ad una comunità che conta oltre 200.000 evangelizzatori e raggiungono, secondo i dati forniti dalla congregazione, circa 400.000 tra simpatizzanti e seguaci in Italia. 6 milioni nel mondo. Nel nostro paese ogni anno i battesimi sono più o meno 10.000. Il maggior numero di congregazioni si trovano in Lombardia, in Campania ed in Sicilia.